ciao a tutti ragazzi come va tutto bene sono appena tornato dalle spese e purtroppo andando a fare spese mi sono dimenticato il telefono a casa non succede quasi mai però quando succede tutti ti cercano e così ho trovato le chiamate il telefono a cui non ho potuto rispondere e naturalmente spero che chi mi ha chiamato mi richiami perché avevo dimenticato semplicemente il telefono a casa perché non posso pensare che io avevo voluto non rispondere era una magnifica giornata di sole si vedono le montagne nevate vediamo se siamo purtroppo non si può vedere da qua comunque è una splendida giornata di sole e si vedono le montagne nevate e questo è tutto e vi saluto perché adesso vado a mangiare qualcosa per un po di fame a dopo